Sono di nazionalità afghana e sono nata ai Milani. Per quanto mi ricordi, ho sempre voluto fare arte e ho sempre avuto un album da disegno. Siamo ritornati in Afghanistan quando io avevo 16 anni. Ho studiato pittura all'università e poi ho cominciato a insegnare e ho conseguito il master. Si raccontava così Shamsia Hassani nel 2016 quando insegnava scultura all'università delle belle arti di Kabul. Dal 2021, con il ritorno dei talebani in Afghanistan, Shamsia è costretta a vivere nascosta perché la sua arte, graffiti che ritraggono le donne afghane in una società dominata dagli uomini, non sono graditi dal regime che puntualmente li cancella. Ma sul suo sito scrive Art changes people's minds and people change the world. L'arte cambia la mente delle persone e le persone cambiano il mondo. Ed è proprio per questo che l'arte di Shamsia non si ferma. La biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, con il gruppo Emergency di Lecco Emerate, da anni impegnato per portare cura in Afghanistan, ha organizzato la mostra Afghanistan con gli occhi di una donna, Shamsia Hassani, donna e street artist, visitabile al piano terra della biblioteca fino al 22 luglio. Shamsia Hassani ci insegna che le donne hanno in Afghanistan il bisogno di ribellarsi a questa oppressione che subiscono. Come potete notare, le dipinge con gli occhi chiusi, senza la bocca, perché proprio a loro è impedito anche di esprimere la propria personalità. Per cui con questi messaggi lei vuole esaltare il bisogno di libertà delle donne. Abbiamo voluto dedicare questa mostra al volontario Antonio Chiodo, che recentemente ci ha lasciato. Antonio ha ideato e creato poi questa mostra raccogliendo il materiale. Noi di Emergency sono ormai più di 30 anni che siamo in Afghanistan, a partire dal primo ospedale che è stato fatto a Kabul, poi ad Annaba e all'Ascarga. Ci stiamo rendendo conto che l'ECCO raccoglie molto il messaggio che Emergency vuole portare avanti. Grazie. Grazie. Grazie.